Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Grazie a una legislazione particolarmente liberale che esiste nella nostra nazione, non può scrivere di argomenti segreti che riguardano il suo lavoro, infatti non ne parla. Il punto è un altro, se tu sei un generale, un prefetto, un capo della polizia, un questore, un carabiniere, dovete rappresentare tutti, sei al servizio del paese, non delle polemiche di parte. E' pieno di generali che hanno scritto dei libri che avete intervistato anche quando tu facevi il direttore su Repubblica. Non sono andati in giro a fare questi giorni. Scusate!